benvenuto nella rassegna stampa di oggi giovedì 6 maggio 2021 sul canale 17 di fano tv c'è occhio ai giornali che come sempre tra poco vi farà vedere i titoli delle notizie che abbiamo selezionato per voi dal Corriere Adriatico e dal resto del Carlino andiamo come sempre però prima a dare uno sguardo al calendario del giorno con il santo oggi è San Venerio il sole sorto alle 5.54 e tramonterà le 20 e 21. Non c'è molto da dire per quanto riguarda il tempo siamo sul sito della protezione civile delle marche per oggi giovedì 6 maggio cielo poco nuvoloso con temperature in aumento continua a soffiare il vento questo vento che ci tiene a volte anche forte compagnia da ormai diversi giorni diciamo che il vento da sud ovest prevalentemente di moderata intensità tenderà a ruotare da sud est lungo lungo la costa nelle ore pomeridiane domani venerdì 7 soltanto un po' di pioggia nell'entroterra così come nella giornata di sabato 8 quando le temperature però saranno in diminuzione soprattutto nei valori massimi per vedere la pioggia bisognerà aspettare la prossima settimana mercoledì più o meno allora cominciamo e andiamo sul corriere adriatico edizione di pesero test dopo la festa tutti negativi tamponi per i 95 maturandi del per amante genga che hanno partecipato al pranzo dei 50 giorni la preside garantita la sicurezza scuola ha detto sui vaccini invece sabato prova generale per questo nuovo hub questo nuovo centro vaccinale che verrà aperto a gradare intanto i tour operator si confrontano un po ne parlano ma insomma non vedono come sbocchi il pass quello green quello diciamo che dà la possibilità di spostarsi per le vacanze questo pass vaccinale con sola ma non risolve il problema poi di spalla qua lo vedremo tra poco il corriere adriatico oggi esce con due pagine dedicate ai protagonisti della politica del passato sono quelli che hanno fatto politica magari per qualche anno per qualche legislatura e poi sono finiti così detto nell'oblio cioè non si sa più nulla di loro e allora che fine hanno fatto è un po come le meteore per gli artisti di italia 1 qui c'è una ci sono due pagine che tra poco vedremo con alcuni personaggi politici i cui nomi sicuramente ci diranno qualche cosa falso testamento la cronaca per avere l'eredità è finita nei guai una badante questa è una notizia che arriva da pesero poi si scaglia contro la madre disabile con spinte e calci coltivava la cannava per per borse decopelle a processo invece è finito per droga il centro per l'impiego invece sciatteria istituzionale la provocazione del responsabile andreani che filma con il telefonino il degrado dell'area e poi lo posta mentre da fano inseguito e preso l'esperto delle incursioni nelle banche andiamo a vedere adesso il carlino di pesero invece la fotonotizia per il coach della vl repegia il fattore jasmine resta oppure no la vl aspetta il sì ma ecco tutti gli scenari le isole pedonali invece ci danneggiano in viale trieste sale la protesta dei commercianti dopo l'annuncio del comune non siamo stati ascoltati a fermignano invece sorgerà la prima moschea della provincia arriva l'ok in consiglio comunale poi operazione della guardia di finanza maxi sequestro alla badante infedele l'intervista a nardo filippetti turismo ok il pass ma a giugno andrà male secondo le previsioni ombrelloni ombrelloni lettini e musica ecco come sarà la nostra spiaggia le linee guida ovviamente per quanto riguarda pesero poi incendio al boncio fumo in galleria fermati treni a fano preso il lupen delle spaccate in banca e poi vaccinazione a gradare a sabato 15 il via contro la rovescia per il palazzetto faremo 100 somministrazioni al giorno e poi da fano non voglio la mascherina causa scuola studente si incatena al banco per protesta contro l'obbligo in classe arriva la polizia la situazione della pandemia nella nostra regione è questa ci sono sette comuni nelle varie province che sono finite sotto la lente di ingrandimento quali sono questi comuni li andiamo a vedere grazie a questo grafico del Corriere Acqualagna che ha 698 positivi per 100.000 abitanti nell'ultima settimana Montappone, Petriano, Fossombrone, Folignano, Acquaviva Picena e Castel di Lama mentre sul quadro sanitario è questo qua ci sono 68 persone in terapia intensiva quindi si sono dimezzati questa è una buona notizia mentre 391 pazienti sono nei reparti di terapia non intensiva il totale dei ricoverati al momento è di 459 persone il titolo arancione rafforzato a rischio sette comuni in tre passano in giallo due parametri sforano la soglia il tasso di incidenza e il numero di positivi nel Mirino, località che abbiamo appena visto del Pesarese, Scolano e Fermano decisiva la settimana in corso quindi questa settimana secondo il monitoraggio migliorano Monte e Labate, Valle Foglie e Cerretodesi ieri quattro decessi, uomini tra gli 82 e i 91 anni con patologie pregresse sulla pagina nazionale del resto del carino il coprifuoco cambia dalla 17 di maggio l'ipotesi di far rientro a casa entro mezzanotte ma potrebbe esserci una fase intermedia con il limite alle 23 mentre sulle visite, per le visite nell'RSA alle case di riposo forse arriverà un ok per la festa della mamma intanto bisogna andare avanti con cautela respinta la proposta di cancellare il coprifuoco come chiedeva il governatore della Liguria come va invece nel resto dell'Europa? insomma in Francia fino al 19 di maggio per esempio tutto fermo dalle 19, dalle 7 di sera in Gran Bretagna invece nessun freno alla vita notturna in Germania ogni città ha dei limiti diversi poi c'è la questione di coloro che si sono vaccinati e che hanno ripreso il virus contagi bis, allarme degli infermieri siamo sempre sul carlino ma i sintomi sono quasi sempre lievi per molti scienziati è prematuro prevedere già ora una terza dose di vaccino la protezione può durare un anno Alessandro Malpelo dice che fa queste domande agli esperti e guardate qua alla domanda quanti infermieri si sono reinfettati secondo fonti ufficiose riferite da De Palma ultimamente si sono avuti 5 infermieri reinfettati a Taormina 2 infermieri reinfettati al Policlinico di Messina precedenti segnalazioni sono venute da Biategrasso nel Milanese 7 da Pesaro 2 con cui si sommano anche i casi qui si sommano i casi anche del Moscati di Avellino 3 di Brescia e di Latina rispettivamente 2 e 5 infermieri reinfettati mentre per quanto riguarda i vaccini ai più piccoli meglio iniziare dai 12 anni in su entro un mese l'EMA deciderà sul via libera gli studi parlano di un'efficacia in questi casi del 100% intanto su quella vicenda che arriva da Falconara che abbiamo seguito anche in rassegna stampa di quel medico di famiglia Sergio Costantini che avrebbe fatto il finto vaccino anche insomma perché un po' sotto pressione dei suoi pazienti insomma alla fine oggi arrivano le dosi quelle vere ecco per ora sono stati accertati 35 pazienti riceveranno l'inoculazione oggi si indaga sugli altri casi sospetti ora dicevamo quelli accertati sono al momento 35 tutte persone sottoposte al test sierologico che ha evidenziato che non hanno maturato anticorpi per cui il siero in loro non sarebbe stato inoculato quindi avrebbero avuto semplicemente acqua fisiologica da oggi invece potranno ricevere le vere dosi di questo antidoto in grado di preservare il Covid-19 perché il distretto sanitario ha organizzato una giornata nei propri ambulatori di Via Ricci a Colemarino dedicata appositamente a queste persone cioè beffati del medico di base con l'aiuto della marina militare che ha messo a disposizione i propri infermieri i pazienti di Costantini per i quali è stato accertato che non hanno avuto il vaccino inoculato potranno recarsi in mattinata all'ambulatorio del distretto in tutta sicurezza scaglionati e senza creare assembramenti e una di loro dice abbiamo fatto sì il sierologico tutto in maniera gratuita finalmente oggi potremmo mettersi in sicurezza ma sentite cosa dice cioè è stato difficile vivere con questo falso senso di copertura appena abbiamo scoperto che c'eravamo anche noi tra quelli che non hanno avuto il vaccino vero il caso dei vaccini fantasma è emerso il 22 aprile scorso dopo la denuncia di una coppia che avendo fatto la prima dose il 30 di marzo non era stata ancora richiamata lì si è un po' insospettita alla fine è venuto fuori quello che è venuto fuori il perché l'abbiamo già detto il medico dice e sostiene che era sotto pressione non aveva le dosi e quindi per farle star zitti gli ha infilato la siringa con dentro acqua fisiologica ma c'è una notizia che questa mattina compare sia sul Corriere Adriatico sia sul resto del carino con due tagli diversi due toni diversi e che riguarda un giovane un giovane di 18 anni che a Fano in una scuola di Fano Olivetti si è incatenato al banco di scuola perché per protesta sembrava una sceneggiata in realtà poi è finita è finita come non doveva finire secondo me ma comunque è stato preso portato in ospedale e pare che abbia avuto anche un trattamento sanitario obbligatorio ma di questo ecco di questo si parla sui giornali questa mattina andiamo a vedere il titolo del Corriere Adriatico in classe senza mascherina finisce in psichiatria il giovane maggiorenne e ha tentato più volte il blitz ieri la polizia municipale lo ha consegnato ai sanitari questo è il Corriere Adriatico mentre il resto del carlino vuole stare in classe senza mascherina si incatena al banco arrivano polizie a 118 uno studente di un istituto superiore fanese si presenta esibendo il parere di un presunto costituzionalista in realtà dice qualcuno lo stanno plagiando l'alunno ricoverato in psichiatria a muraglia il professor dice ma in fondo lui è soltanto un bastiano contrario insomma io l'ho riletto due volte perché all'inizio mi sembrava una cosa veramente surreale qualcosa di che non poteva essere che un ragazzino di 18 anni finisse davvero in psichiatria solo perché ha manifestato il suo dissenso contro una mascherina però è andata così almeno così scrive Gennari sul Carlino così scrive Foghetti sul Corriere Adriatico noi non siamo riusciti a seguirla ma comunque cercheremo di capire un po' meglio come sono andate le cose la 5 non vi leggo l'articolo perché chiaramente va comprato il giornale anche perché andrebbe letto tutto perché una parte sarebbe forviante di quest'articolo quindi per ora in rassegna accontentatevi del titolo le 52 mila dosi invece della Pfizer salvano il mercoledì nero oggi le 9 mila di Moderna l'assessore Saltamartini dice così siamo coperti fino al 20 di maggio la balante rumena invece dà il buon esempio niente paura di AstraZeneca e poi invita a vaccinarsi ieri in 400 all'Aristò di Pesaro poche le rinunce un novantenne voleva la seconda con un mese di anticipo dice lui e se poi muoio prima dell'8 giugno speriamo di no intanto intanto ecco questo è un po' se ne sentono tante se ne raccontano tante insomma chiaramente c'è in alcuni casi anche come dire un po' di simpatia fanno un po' di simpatia questi questi anziani che già sono preoccupati però qualcuno in mezzo alla preoccupazione ci mette anche che è il senso dell'humor intanto il bollettino di ieri nessuna vittima in provincia 55 però sono i positivi lascia il suo patrimonio all'abadante ma la firma sul testamento è falsa è un falso e quindi la donna è stata denunciata dalla finanza per circonvenzione di incapace e appropriazione in debita è stata scoperta dalla guardia di finanza a Lido e a Sassonia rivoluzione parcheggi titolo del Carlino di Fano iniziati i lavori per trasformare 311 posti da liberi quindi strisce bianche a blu strisce a pagamento fino al 15 di settembre si paga anche nei festivi residenti e operatori compresi dunque c'è questa rivoluzione di cui parla nella pagina del Carlino questa mattina Anna Marchetti ogni ora costa 1 euro 1 euro e 20 anzi 1 euro e 20 centesimi più la sosta è lunga meno si paga un'intera giornata cioè dalle 8 del mattino alle 20 di sera costa 10 euro a Baia Metauro invece si cerca un gestore per l'area di sosta il comune mette a disposizione il terreno che va gestito da Senigallia invece l'omicidio quella bruttissima vicenda di quel padre che ha ucciso il figlio con un colpo di pistola a Senigallia qualche settimana fa Loris Pasquini il padre resta in carcere e indica però agli investigatori un file contenuto nel suo computer con dentro dei filmati filmati in cui si vedrebbero le violenze che lui ha ricevuto nel tempo dal figlio Alfredo e adesso questo file lo dovrà visionare il pubblico ministero intanto questo 72enne con un passato da ex ferroviere ma anche come ufficiale dell'esercito dice che sostiene anzi che se non lo avesse fermato lui quella mattina con la pistola voleva sparare le gambe volevo sparare le gambe dice lui ma se non l'avesse fermato con la pistola l'avrebbe ammazzato il figlio a colpi di bastone poi l'altra cronaca sempre dal giornale di dal Carlino di Senigallia rubano la bici ad un bambino questo è successo vicino ad una ad una scuola poi sotto viola il coprifuoco multata una donna gli agenti sono intervenuti anche per una lite arrestato un uomo che deve scontare tre anni di carcere a Fermignano la prima moschea della provincia di Pesaro Urbino voto unanime in consiglio comunale per modificare il piano regolatore generale e assegnare lo status di luogo di culto al luogo di preghiera dunque si chiamerà Luce la prima moschea della provincia di Pesaro Urbino ed è nata in questi giorni a Fermignano in realtà nell'edificio che è proprietà di questa associazione culturale islamica già da diversi anni si svolgevano attività religiose adesso è soltanto una questione formale un passaggio di status da luogo di culto a luogo di preghiera mentre andiamo sull'altra pagina del giornale a pagina 13 il Corriere Adriatico queste sono le fotografie che il direttore del centro per l'impiego Claudio Andreani ha filmato e ha pubblicato dove si vedono queste siringhe e anche dell'immondizia è una provocazione quella del responsabile del centro per l'impiego che però serve per scuotere un pochettino le cose per cercare di risolvere il problema del degrado tra siringhe immondizia ed erbace parliamo del job del job di Pesero centro per l'impiego dove si va a cercare lavoro mentre restando a Pesero in Viale Trieste le isole pedonali stanno facendo storcere il naso a più persone la protesta un coro di no però il comune di Pesero va avanti i commercianti contestano la scelta di confermare le scelte dell'anno scorso anche per la prossima estate non è vero che le cose sono andate bene eppure hanno deciso di riproporre tutto senza nemmeno consultarci dicono così i commercianti ma anche i titolari o comunque chi giustisce gli hotel in quella zona in Viale Trieste appunto a Pesero c'è ancora un po' di cronaca sui giornali di questa mattina pagina 17 del Carlino per esempio allora da Colli al Metauro bombola di gas anzi bombola a gas davanti al ristorante pagami o faccio saltare tutto il fornitore del noto locale Settimo Cielo a Serongarina patteggia 20 mesi di reclusione per tentata estorsione qui parliamo di un processo Elisabetta Rossi questa mattina ha insomma scritto appunto di questo fatto che è successo un po' di tempo fa e che vede il protagonista appunto anche questo noto ristorante ora andiamo apriamo queste due pagine invece adesso devo fare così ecco così le vediamo tutte e due insieme dovremmo vederle sul monitor perfetto allora che fine hanno fatto queste persone che vedete nelle fotografie qua sotto usciti dalla politica punto di domanda allora sono dieci personaggi politici a partire da Luigi Zura puntaroni ex consigliere provinciale lo vedete qua su in alto a sinistra per proseguire con Paolo Petrini poi nei nostri fanesi più o meno Renato Claudio Minardi oppure Marco Marchetti ex segretario provinciale del Partito Democratico ecco che fine hanno fatto allora qualcuno dice per esempio Renato Claudio Minardi sono pensionato in trincea forse potrei dedicarmi alla libera professione anche perché è laureato in giurisprudenza e quindi dice potrei farlo come libera professione mentre Marchetti per esempio ex segretario provinciale del PD di Pesaro 5 anni alla Camera e adesso è sindaco di Sant'Ippolito adesso da sindaco dice lui vivo la politica alta non faccio consulenze poi ci sono altri nomi come Piero Celani Amedeo Ciccanti Loretta Bravi che adesso insegna filosofia eccetera ecco se siete curiosi di sapere che fine hanno fatto ecco potete andare a leggere queste due pagine del resto del Carlino intanto c'è un ex sindaco che invece è quello di Sant'Angelo Invado Giuseppe Pasquini di cui parla il resto del Carlino questa mattina a pagina 20 che ha avuto purtroppo ha subito una brutta caduta e adesso insomma è bloccato per i postumi di un intervento però lui non si arrende ha 95 anni per tutti Sciango così viene viene chiamato e si parla di lui questa mattina appunto sul giornale chiudiamo con una pagina di sport allora la pagina di sport riguarda la pallavolo perché abbiamo la notizia innanzitutto che ieri la Mad Store di Macerata ha battuto Lecce e adesso vola in semifinale dalla 3 per il passaggio alla 2 playoff i maceratesi lottano con determinazione fino all'ultimo prossimo match in programma domenica contro Motta di Livenze poi sotto invece Covar Diamantini Iante e Marchisio rimarranno con la Lube il vice presidente Biancoroso Massaccesi dice tre titoli conquistati in cinque anni un ciclo stupendo vogliamo rimanere al top allora vi ricordo che questa mattina alle 7.30 non andrà in onda la messa dalla Santa Casa di Loreto ma dalla Basilica Vaticana la Santa Messa è per la Guardia Svizzera e sarà presieduta dal Cardinale il Segretario di Stato Pietro Parolin mentre alle 3 del pomeriggio avremo dalla cappellina qui di Fano TV dedicata alla Divina Misericordia avremo la coroncina e il Santo Rosario poi alle 17 abbiamo cambiato questo mese di maggio l'orario alle 17 la messa e alle 18 invece di nuovo il Santo Rosario in diretta in diretta dal Brasile se non mi ricordo male oggi dovrebbe essere in diretta dal Brasile e si pregherà per tutti i giovani grazie per averci seguito alle 20.30 invece c'è il telegiornale occhio alla notizia arrivederci a